il brasiliano scopre lacrime nelle sue stories dopo aver scoperto che michel comi ovvero la sua fidanzata attuale è andata a tradirlo in polonia con il noto guru thomas makorig ma c'è un finale simpatico a questa cosa e vi dirò di più c'è anche un'altra cosa aggiuntiva su telegram dove il brasiliano fa capire un po che si sta divertendo non vi metto nient'altro se non una breve anteprima per farvi capire ma avete già capito il telegram come sempre lo trovate nella bio del mio instagram vi lascio filmati noi ci vediamo un prossimo video in linea lo studio mi stai tratendo con quel cesso tu mi stai tratendo con quel cesso è stempiato è brutto è storto perché mi stai facendo così michel perché mi stai facendo così io sto soffrendo sto soffrendo molto ti posso dire una cosa proprio soffrendo molto non proprio molto sto soffricchiando sto soffricchiandino ma con quel cesso per stare a 3d ma davvero sta fa michel eh dai che va bacio bacio al brasile bacio che con quello che fai sappiamo tutti come sono messi le più coronarie quindi stai tranquillo che sennò rischi l'infartino io sto qua con tomas in polonia sto benissimo tu stai pure a roma con quelle due scappate di casa e stiamo bene tutti